Eccoci qui ragazzi in un nuovo video. Allora direi che la previsione delle ultime settimane, degli ultimi mesi è stata corretta, cioè che Bitcoin avrebbe toccato i 40.000 dollari prima di vedere un ritracciamento. In realtà non è stata proprio una previsione corretta perché abbiamo anche superato i 40.000 dollari. Infatti questa notte abbiamo toccato i 42.000 dollari ed in questo momento ci troviamo intorno ai 41.500. E anche qualche giorno fa, più precisamente il 26 di novembre, ho detto quella che era la mia idea soprattutto di breve termine, cioè che Bitcoin sarebbe corretto nella migliore delle ipotesi a 36.000 e se nella peggiore a 34.000 per poi up only season, quindi salire e basta. Effettivamente così è stato. Detto questo, andando a dare un'occhiata a quella che era la situazione, sia a livello tecnico sia a livello fondamentale, anche se non mi piace molto il termine fondamentale, non era così complicato capire che avremmo toccato i 40.000 dollari. In questo momento però è difficilissimo, quasi impossibile dire quello che succederà, soprattutto nel breve termine. In questo video faremo dei ragionamenti per cercare di capire quello che potrebbe succedere prossimamente, quindi andrò a dire quello che mi aspetto per il prossimo periodo e andrò anche a mostrare i miei prossimi trade. Quindi ragazzi, se siete nuovi su questo canale e vi piacciono queste tipologie di contenuti, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Ora, proprio perché mi piace essere molto chiaro, parto subito con il dire che non ho grandi dubbi rispetto al fatto che Bitcoin e che molte altcoin, soprattutto di intelligenza artificiale, continueranno a salire nel medio e lungo termine, quindi nei prossimi 12-24 mesi. Non ho assolutamente nessun dubbio che da qui in poi inizieranno diversi shakeout, inizieranno diverse correzioni. Correzioni che molto probabilmente spaventeranno diversi retail investor, o per meglio dire retail speculator, quindi speculatori retail. Quindi dico anche subito che dopo una grande risalita come questa, non penso che sia questo il momento di farsi prendere dalla FOMO, che è quello che stanno facendo probabilmente molti speculatori. Infatti in questo momento la liquidità si trova al di sotto di noi e non al di sopra. Ci sono dei target che potremmo andare a raggiungere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, proprio perché in questo momento la FOMO si sente proprio nell'aria, quindi il sentimento è molto bullish, eccessivamente bullish. Quindi non mi stupirei di andare a vedere i prossimi giorni un potenziale target di Bitcoin a 47-48 mila dollari. Però ripeto, personalmente non penso che sia questo il momento di farsi prendere dalla FOMO, anzi il contrario. Probabilmente questo è un buon momento per liquidare un po' di profitti fatti, soprattutto su certe altcoin. Ovviamente quando dico liquidare un po' di profitti, almeno personalmente non intendo uscire dalle mie posizioni, intendo semplicemente andare a liquidare una minima parte, che è soggettiva, può essere un 10, 15, 20, 25%. E quello che andrò a fare è prendere questa liquidità ed accumulare nuovamente nel momento in cui vedremo delle correzioni, nelle posizioni su cui possiedo maggior convinzione. In questo momento, ripeto, è molto difficile fare delle previsioni, personalmente sono un 50-50, quindi un 50% di probabilità di vedere Bitcoin nelle prossime settimane tra i 47 e i 48 mila dollari. E un 50% di possibilità di vedere Bitcoin almeno intorno ai 38-38 e mezzo nei prossimi giorni. Se Bitcoin però non facesse brutti scherzi di una cascata di liquidazione anche al di sotto dei 38 e mezzo e dovesse resistere tra i 38 e mezzo e i 40-42 per i prossimi giorni e le prossime settimane, mi aspetto che le altcoin, o per meglio dire molte altcoin, continueranno a salire. Quindi per quanto riguarda i miei trade, in questo momento dico anche subito che ho tuttora la posizione su Dogecoin aperta, una posizione long su Dogecoin. Una potenziale area per posizionarmi short su Bitcoin va dai 47 ai 48 mila dollari, ma in questo momento non sono granché convinto di posizioni short, come ho detto più e più volte nelle ultime settimane. Infatti con un mercato così bullish, nonostante prima o poi ci sarà una correzione, preferisco aprire delle posizioni long rispetto che delle posizioni short, quindi il contrario di quello che abbiamo fatto durante il bear market. Per quanto riguarda invece delle posizioni long, un'area che mi interessa in questo momento sono i 38 e mezzo, 39 mila dollari. Tra l'altro sotto in descrizione trovate il link di Bybit e di Bitgate, che sono le principali piattaforme che utilizzo per fare trading a leva. Sono anche tra le poche piattaforme che posseggono molte altcoin di intelligenza artificiale ed altre che in questo momento non ci sono nei maggiori exchange. Trovate il link sotto in descrizione con tutti i bonus sul primo deposito e i tutorial che ho fatto personalmente. Allora, come dicevo in questo momento non mi sbilancio troppo, nel senso che attribuisco un 50 e 50 nel vedere di 47 e 48 mila, oppure vedere almeno un minimo di correzione. O almeno questo a livello tecnico, come ben sapete mi sono sempre sbilanciato, mi sono anche sbilanciato nelle ultime settimane dicendo che mi aspettavo Bitcoin almeno a 40 mila. Però in questo momento, ripeto, la situazione a livello tecnico è secondo me un 50 e 50. Il sentimento, però, a mio personale parere, potrà rimanere bullish fino alla potenziale approvazione dell'ETF di BlackRock, che secondo molte fonti dovrebbe essere inizio anno 2024. Molte fonti parlano del 10 gennaio. Però per quanto riguarda l'approvazione dell'ETF di BlackRock, secondo il mio parere c'è un po' una credenza sbagliata che molti speculatori hanno. E che quindi quando l'ETF sarà approvato, da lì in poi Bitcoin salirà e basta, andando a 60, 80, 100 mila dollari. Bene, nonostante anche io, come detto inizio video, nel lungo termine rimango bullish su Bitcoin, non mi stupierei però di vedere una price action bearish dopo, subito dopo l'approvazione dell'ETF. E per essere ancora più preciso, mi aspetto potenzialmente un pump alla notizia dell'approvazione dell'ETF, per poi susseguirsi nelle ore successive o nei giorni successivi una correzione. Il cosiddetto buy the rumors and sell the news, quindi il cosiddetto compra le voci di corridoio ma poi vendi la notizia. E se questo dovesse effettivamente concretizzarsi, mi aspetto molto panico sui mercati, mi aspetto che anche in questo caso molti retail investor, come dicevo prima, entreranno nel panico e venderanno, a quel punto personalmente sarò un compratore, perché ripeto ancora una volta, rimango bullish su Bitcoin e su altcoin di intelligenza artificiale per il medio e lungo termine, quindi nei prossimi 12-24 mesi, nonostante diverse correzioni che andremo a vedere. Quindi ragazzi staremo a vedere quello che succederà, farò degli aggiornamenti molto presto, probabilmente già tra domani e dopo, perché ho intenzione di fare anche un video un po' più specifico riguardo a quella che è la mia aspettativa con il discorso di tassi e interesse, che impatto potrebbero avere sui mercati, sia sul mercato tradizionale, quindi l'obbligazionario e il mercato azionario, ma anche e soprattutto le potenziali ripercussioni su Bitcoin e sulle cripto. Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale e dire che anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.